A lei chiediamo un parere e un'opinione sull'accordo, sulla proposta Etno per l'estensione delle ITR al mondo internet. Credo che la proposta dell'Etno all'ITU abbia avuto il merito di aver sollevato l'attenzione da parte delle istituzioni, del mercato e degli stakeholders. Non credo sia il contesto adatto perché in realtà non siamo favorevoli ad un intervento regolamentare che porti ad una negoziazione forzata. Siamo però, d'altro canto, anche non favorevoli ad un intervento regolamentare che limiti una libera negoziazione in termini di quality of services. Quindi noi riteniamo che i servizi ad alta qualità debbano essere un'esigenza naturale che emerge dal mercato dall'incontro della domanda e offerta. E riteniamo che il mercato è su questa onda e nei prossimi anni questa esigenza sarà sempre più intensa. Questo perché? Non perché la banda è tanta e tende a decrescere, ma questo perché aumentano, secondo noi, i servizi ad alto assorbimento di banda. Aumentano i servizi su cui è necessario dare una performance migliore in termini di KPI, latency, piuttosto che packet loss o JIT. Siamo dunque favorevoli ad una negoziazione. Riteniamo che le aziende debbano lavorare in questo senso, ma non solo per incontrare il mercato, ma anche per valorizzare i propri asset, siano gli eyeballs che la rete. Telecom Italia ha una rete di tutto rispetto e ha anche una customer base di tutto rispetto. Quindi sicuramente l'indirizzo, il nuovo indirizzo che Telecom Italia sta dando in termini di nuove IP in policy, mira a valorizzare questi asset. Il traffico è fortemente sbilanciato sulla rete di Telecom Italia. L'entrante è uno anenne volte superiore al nostro uscente. E quindi questo è stato negli anni causa di investimenti incrementali e anche peggioramento della qualità a cui Telecom Italia ha dovuto porre rimedio al ricorso. Quindi se questo è il contesto, Telecom Italia vi si sta muovendo in ottica assolutamente commerciale. Le azioni che stiamo mettendo in campo, testimone i singoli operatori, sono azioni che hanno visto la struttura di vendita di Telecom Italia agire in un rapporto one to one per raccontare quanto Telecom Italia sta facendo e che tipo di alternativa ritiene dare al mercato rispetto appunto al mutato contesto. Quindi qual è il modello di business più adatto per internet? Probabilmente non esiste un unico, un modello adatto per tutti i rapporti internet, per tutti i contesti, ma riteniamo siano diversi i modelli di business. Dal standing party pace eventualmente, se l'accordo commerciale tra le parti va in questa direzione, fino anche a rapporti di revenue sharing o di offerte commerciali in ottica premium. Non esiste one solution for all. Grazie. Grazie.